La spirulina ha controindicazioni? Cercherò di essere chiaro e spero breve. Molti mi fanno questa domanda e mi fanno anche alcune obiezioni o delle domande in particolare. Ad esempio mi chiedono, la spirulina ha controindicazioni? Potrebbe contenere tossine? Allora, chiaramente qualsiasi alimento naturale potrebbe contenere tossine. Tutto potrebbe contenere tossine. Devo fare attenzione a cosa sto acquistando. Non posso acquistare in un negozio sconosciuto solo perché il prezzo è estremamente basso. Il prezzo è estremamente basso. Mi deve far sospettare, non per forza di tossine, ma anche di scarsa qualità. Diciamo che la presenza di tossine all'interno di un alimento, di un integratore, è una cosa chiaramente molto grave, ma è difficile che delle tossine finiscano in un alimento. Comprate la spirulina Milano Farma, rivolgetevi a me, comprate un integratore notificato al Ministero della Salute. L'avete la garanzia del Ministero della Salute, il prodotto è controllato, gli stabilimenti sono controllati, le materie prime sono controllate, gli stabilimenti in cui vengono prodotti. E' una garanzia enorme quella della notifica ministeriale. Poi, per continuare, diciamo quella delle tossine non è una vera e propria controindicazione, però è una domanda che spesso mi viene fatta. Poi, spesso su internet si trovano delle pagine in cui si parla di spirulina e controindicazioni. Allora, io credo che questa sia un po' una forzatura. Perché succede questo? Perché molte persone cercano spirulina e controindicazioni. I proprietari dei siti web sanno che cosa cerchiamo e ci danno una risposta alla nostra domanda. E allora scrivono un po' quello che ritengono più opportuno. E si fa presente in alcuni siti web che la spirulina è controindicata in chi ha malattie autoimmuni e in chi ha la PKU. Diciamo che questa è un po' una forzatura. Vediamo se riesco a essere chiaro. Perché sono due malattie molto particolari. Le malattie autoimmuni sono malattie in cui il nostro sistema immunitario aggredisce il nostro organismo. E quindi è una malattia invalidante. E siccome la spirulina aiuta il sistema immunitario ad essere più forte, si fa questa associazione per cui la spirulina è controindicata in chi ha malattie autoimmuni. Ma diciamo che la spirulina rinforza molto il sistema immunitario. Ma non è la sola che rinforza il sistema immunitario. Sono tantissimi gli alimenti. La vitamina C, ad esempio, rinforza il sistema immunitario. È presente in tantissima frutta. Ma è una forzatura questa. E' chiaro che chi ha una malattia autoimmune deve fare attenzione. Ma chi ha una malattia autoimmune lo sa che deve fare attenzione. E deve chiedere al proprio medico. Non può chiedere al negoziante. Perché troppo spesso questi prodotti, questi integratori, ormai si trovano un po' dovunque di tutti i prezzi. E bisogna fare attenzione. Bisogna chiedere al farmacista. Bisogna comunque comprare un prodotto da una persona competente. E' chiaro che comunque è una forzatura. Perché chi ha una malattia autoimmune deve fare molta attenzione alla propria alimentazione. Così come un celiaco. Un celiaco lo sa che non può mangiare la pasta. E non c'è scritto sulla pasta controindicata nei celiaci. Sarebbe una forzatura. Così come la PKU. E' una malattia in cui non si riesce a smaltire una certa sostanza, la fenilalanina. Ma questa malattia provoca dei danni gravissimi. E' una malattia altamente invalidante. E la fenilalanina è contenuta in tantissimi alimenti. Si legge su internet, sì, ma nella spirulina c'è una grande quantità di fenilalanina. Ma non è vero. La spirulina ne contiene, per esempio, solo il doppio rispetto ai ceci. Però parliamo di quantità su 100 grammi. E di ceci ne possiamo mangiare anche 100 grammi, 200 grammi. Di spirulina ne assumiamo pochi grammi al giorno. Ma comunque stiamo parlando di una cosa che è una forzatura. Perché sì, è vero, può essere controindicata in queste due situazioni. Ma non è neanche detto perché la fenilalanina è comunque un aminoacido essenziale. E non se ne può fare a meno. Quindi comunque vanno mantenuti livelli bassi di questa sostanza. Quindi bisogna sempre confrontarsi con il proprio medico per queste informazioni. E io mi sento di dire che, insomma, per una persona in salute, la spirulina non ha controindicazioni. E in casi particolari, magari non particolarissimi, come nell'infanzia, in gravidanza, anche questo non posso andare, anche in farmacia, non posso venire in farmacia e chiedere, dice io sono incinta, posso prendere la spirulina? E questa domanda va fatta al ginecologo, oppure al pediatra, se la si vuol dare ai bambini. La spirulina la si deve, lo si deve chiedere al pediatra. Ma una persona adulta, in salute, che magari vuol perdere un po' di peso, o che magari si sente stanco, debilitato, o che magari ha bisogno di un prodotto di bellezza, perché la spirulina fa tanto bene anche alla pelle, alle unghie, ai capelli, migliora l'abbronzatura. Insomma, una persona in buona salute può prenderla la spirulina serenamente. La spirulina Milano Farma è notificata al Ministero della Salute, e mi sento di consigliarvi quella. È prodotta a Manerba del Garda, è prodotta da noi, un'azienda italiana. Quindi è bene sempre scegliere un'azienda italiana, questo per altri motivi, non di sicurezza, ma non solo. Sappiamo che l'italianità eccelle in tantissimi settori, tra cui anche quello dell'integrazione. Abbiamo delle regole molto rigide, molto severe, abbiamo un Ministero della Salute che fa sempre un ottimo lavoro, e comunque portare e far girare l'economia nel nostro paese è sempre una buona idea. Però, insomma, questo è un altro discorso, mi sto dilungando un po' tanto, spero di essere stato chiaro. Comunque, sul sito trovate tutti i miei contatti, mi potete anche telefonare per domande o chiarimenti. Grazie.